Passiamo un po' all'ultima parte che è quella relativa alle curiosità del film. Nel film mancano gli specchi. Hai detto che ti sei ispirato ad una storia realmente accaduta in Argentina? Sì, sì, sì. Nel labirinto mancano gli specchi. È una delle torture a cui viene sottoposta la ragazza, Valentina Bellè, Samantha Andretti è il nome del personaggio. Perché? Era un caso che mi aveva molto colpito in Argentina. Il rapitore di una ragazza che era stato condannato. La pena era stata aumentata, quindi era stata prevista un aggravante per il fatto che le avesse tolto gli specchi. Perché lei non si rendesse conto del passaggio del tempo. Perché il primo modo in cui ci accorgiamo del passaggio del tempo non è guardare l'ora. Se non abbiamo l'orologio ci guardiamo allo specchio e capiamo che stanno passando i giorni. Che è una tortura terrificante. Pensa se ci togliessero gli specchi dalla vita quotidiana. Soprattutto adesso. Soprattutto adesso. Siamo circondati da specchi. I nostri telefoni, internet sono diventati anche il nostro specchio. Ma farli sparire anche da intorno a noi è veramente una tortura psicologica violentissima. Visto la grandissima scelta che avevi dei tuoi libri, come mai hai deciso di andare, di puntare sull'uomo del labirinto? Perché quello più collegato al suggeritore, anche se non diciamo come, c'è un passaggio segreto. Quindi io lo facevo adesso perché se no il colpo di scena legato al suggeritore non avrei potuto più mostrarlo. Quindi o era adesso o mai più. E poi perché era la storia che avevo più fresca avendo scritto da poco il romanzo. Tra l'altro l'ho scritto mentre giravo La ragazza nella nebbia sulle pagine bianche di quella sceneggiatura. Senti prima dicevamo dei film thriller tipo i tuoi, tipo Silenzio Innocenti, tra l'altro i tuoi film, l'avevo detto prima del tocco vintage che tu ci metti in ogni film con il telefono vecchio stile, con il tubo catodico, con la televisione con il tubo catodico. Non si fanno più. Ma una parte della colpa secondo te è Dan Brown. Cioè l'arrivo di Dan Brown, la moda di Dan Brown, ha un po' creato un'omologazione sia nei libri che nei film? Sì, sicuramente. Dan Brown ha portato un libro straordinario che ha cambiato tutto. Poi il voler inseguire a tutti i costi quel filone secondo me non è stata proprio colpa di Dan Brown ma di chi ha voluto emularlo. Ha sacrificato tutti i grandi thriller degli anni 90, la grande stagione del thriller, Silenzio Innocenti, Seven, i soliti sospetti, The Game. Insomma quella è una stagione irripetibile. Ecco perché mi ispiro e attingo a piene mani da quell'immaginario. Adesso grazie a te li possiamo di nuovo rivedere al cinema. Speriamo. Allora, so che uscirà a breve il tuo prossimo romanzo, giusto? Sì, esatto. Esce a dicembre. Un thriller? Immagino sia un thriller. È un thriller anomalo perché trattandosi del decimo ho preferito cambiare un po' lo stile, cambiare un po' le cose. Ci sono tre elementi che lo caratterizzano, si chiama la casa delle voci e sono bambini, fantasmi e malattia mentale. Benissimo. Allora, quindi non è sul VAR, mi pare di aver capito, come dicevamo prima, quindi non sarà sul VAR. Una chiusura appunto, però una chiusura calcistica, facciamola a questo intervista. Mi vuoi fare del male? Vabbè, facciamoci. Esatto, ti faccio un po' del male. Allora, questa stagione del Napoli, tutti i Finapoli insomma, anche se mi hai detto che ultimamente ti sei un po', anche pure per i tuoi motivi professionali, magari un po' staccato, esatto. Staccato e stancato. Però insomma la stai comunque seguendo, lo stai comunque seguendo il Napoli con un certo affetto oppure no? Non è più come prima, il calcio in generale? Sono un tifoso arrabbiato, devo dire la verità. Il calcio in generale, sì, ragazzi, sporcatemi un po' più le mani, basta, basta. Prendete esempio anche dal cinema, dagli attori. Dal cinema, ma anche dal calcio femminile, posso dirti. È molto più rude. Adesso i calciatori, ripeto, pensano alla depilazione e alla pettinatura. Bisogna essere un po' più, come dire, si vuole un po' più di agonismo. Ecco, questo manca assolutamente al calcio moderno. Però Ancelotti resta sempre un grande allenatore. Ancelotti è un magnifico allenatore. Gli manca un grande campione in campo che sappia prendere per mano la squadra nei momenti topici. Ma anche un campione di una certa età, con una certa esperienza. Non è necessario avere proprio un campione ventenne, insomma, un pepe, tanto per dirci qualcosa. Però lo vedi, comunque segui, non è vero che non segui. Seguo molto il calcio mercato e dico sempre, sì, no, mi appassiona molto, mi appassiona un po' meno i bilanci. Perché questa storia del Napoli ha un bilancio perfetto, ma al tifoso gliene frega niente, francamente. Ed è giusto che non gliene freghi niente al tifoso. No, credo che un po' il Napoli sia un po' come Toto Cutugno negli anni Ottanta, destinato ad arrivare secondo in tutti i festival di Sanremo. Però le canzoni di Toto Cutugno, quelle canzoni ce le ricordiamo ancora oggi. Quindi chissà, forse tra vent'anni ci ricorderemo di come giocava questo Napoli, ma senza trofei. Diamo anche merito a Donato Carrisi, perché quando venne qui l'altra volta, un po' di tempo fa, tra l'altro ti portavo anche fortuna, lo possiamo dire, insomma, per il tuo precedente film. Mi dicesti, Sarri era appena andato nel Napoli, arrivò Ancelotti, e tu mi dicesti, sì ma Sarri vedrai che poi alla fine ce lo dimenticheremo, perché c'erano ancora molte vedove di Sarri, no? Sarri è finita da Juentus, quindi avevi ragione tu, diciamoli. Sì, ma ce l'abbiamo dimenticato. Ma non è stata una ferita, devo dire. Penso che il tradimento più grave sia stato sempre quello di Higuain. Quello rimane. Che non passa. Quella è una ferita che non si rimargina. Quella mai, quella mai. No, Sarri è giusto, anzi mi auguro che vinca anche tanto, perché se lo merita, è perché è arrivato ad una certa età a quel successo. Quindi vuol dire che è veramente affaticato per tanti anni e se lo merita in pieno. Allora Donato, io ti ringrazio di essere stato il nostro ospite. È stato, come al solito, un grandissimo onore e piacere. E se volete capire come Donato Carisi è riuscito a far parlare una persona senza labbra per sette minuti in una scena, scena meravigliosa quella, la dovete andare assolutamente a vedere, andate al cinema a vedere appunto L'uomo del labirinto. Grazie. Alla prossima, un saluto a tutti.